Ciao ragazzi, sono Dario, sono un ragazzo di Padova, dall'accento forse si sente, e questa sera vorrei raccontarvi qualcosina della mia storia, non tutta, spero di riuscirevi ad incontrare presto, magari di persona, così potremo parlare meglio. Comunque io, per farla breve, sono nato non cristiano, non ho ricevuto il battesimo da piccolo per un semplice motivo. Mia mamma è cristiana, cattolica di Padova, mio papà è musulmano, libanese del Libano, quindi hanno scelto di non dare nessun credo religioso. Col tempo, con una serie di avvenimenti, ho deciso di chiedere di ricevere il dono del battesimo. Sta di fatto che il 23 aprile 2011 sono diventato cristiano. La notte di Pasqua, il sabato santo, ho ricevuto il battesimo, la cresima e la prima comunione. Questa sera vorrei raccontarvi però un punto che a me sta molto a cuore riguardo all'accogliere Gesù, che prima non conoscevo assolutamente, che prima conoscevo solo in parte perché la mamma di mia mamma, quindi la mia nonna, cercava di inculcarmi l'idea di Gesù dicendomi, Dario, diciamo un padre nostro e un Ave Maria prima di dormire, quando ero piccolo, così domani ti compro le figurine per l'album e queste cose qui. Lei ci provava sempre, quindi lo conoscevo come un'imposizione, ma in realtà non l'ho mai conosciuto. E com'è che l'ho conosciuto poi? Guardandomi indietro, ho potuto ricostruire la mia storia con degli avvenimenti che a posteriori ho detto, cavolo lì, Gesù c'è stato. Il primo di questi è stato il 15 marzo del 2005, forse fa un po' ridere ma è davvero così, e ascoltate bene. 15 marzo 2005, Inter contro Porto, io super tifoso dell'Inter e super tifoso dell'ex giocatore dell'Inter è Adriano, l'imperatore. Segna, alza la maglietta, va verso la telecamera e fa vedere una maglia sotto la maglia dell'Inter con scritto Filippesi 413. Io, oltre ad aver risultato, aver spaccato un po' di cose in casa come facevo sempre quando segnava l'Inter, mi chiedo cosa volesse dire quella cosa lì. Adriano è un mio idolo, io da suo fan, devo sapere tutto di lui. La mattina dopo, la sera vado a letto col dubbio, la mattina dopo ero in terza media, chiedo alla mia professoressa di religione, cosa volesse dire quella scritta. Non so perché, ma avevo un sentore che potesse riguardare qualcosa di religioso. Mi dice che è la lettera di San Paolo al popolo dei Filippesi, 4 il capitolo, 13 il versetto, e corrisponde ad una frase. Non sapevo dove si potesse trovare, mi dice vai sulla Bibbia, non sapevo cosa fosse la Bibbia, però come riferimento avevo la nonna. Nonna, religione, erano la stessa cosa. Praticamente la nonna mi la Bibbia, vado alla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 13, e vedo tutto posso in colui che mi dà la forza. Da quel giorno, un po' per scherzo, ho cominciato a preparare le magliette con scritto Filippesi 4, 13, andavo a messa con mia nonna appunto per farmi comprare le figurine, ma dicevo Adriano prega, provo a pregare anch'io e dicevo Gesù fammi diventare come Adriano, tutto posso in colui che mi dà la forza, Filippesi 4, 13, per favore comadriano. Era una fede, una richiesta, voglio diventare comadriano, Gesù fammi da tramite per favore. Sta di fatto che un altro punto importante è stato quattro anni dopo in quarta superiore una mia compagna di classe che poi è diventata la mia ragazza. Io per farmi piacere e per farle piacere ho detto che anch'io cantavo in chiesa, andavo a messa tutti i giorni, facessi, fossi animatore ACR, fossi scout, tutte queste cose qui. In realtà non lo ero assolutamente, ma andavo a messa con lei per vedere lei, quindi questa cosa ci stava dentro di me. Fino ad un giorno in cui mi dice Dario oggi non serve che vieni perché sono malata e quel giorno lì è stata la svolta. Da, che figata, l'Irene non mi rompe le scatole per una volta, posso dormire. Sono passato a, che figata, sento il bisogno di andare a messa. Non a messa da lei per vedere Irene, ma a messa perché sento il bisogno. Non mi sono mai spiegato questo passaggio, ma quando una cosa è tanto grande non bisogna spiegarsela. Penso che bisogna solo accoglierla. Poi, 23 aprile 2011, ho ricevuto il battesimo. Non voglio farla troppo lunga, se no poi rompe dopo un po', ci sta. Vorrei dirvi solo una cosa, che io sono stato lontano da Gesù, non lo conoscevo assolutamente, anzi lo bestemmiavo addirittura, mi ricordo in terza media soprattutto. Però, quando Adriano ha segnato nel 2005, io guardavo la partita dell'Inter, ero fan di Adriano e Adriano quella sera, Gesù quella sera voleva dirmi qualcosa con quel gol di Adriano, con quella maglietta lì. Ha messo nel mio cuore un seme. Sono stato bravo io? No. L'ho accolto però. L'ho accolto. Vedete questa cosa che c'è scritto qua dietro, Radar? È stato un evento che abbiamo fatto qui in Diocesi di Padova, qualche mese fa, prima della quarantena, e il tema era uno sguardo nuovo. Ecco, penso sia proprio questo il centro. Non che cambiano gli avvenimenti intorno a te, ma che tu hai uno sguardo nuovo capace di vedere gli avvenimenti che ti succedono sotto un'altra luce, con uno sguardo nuovo appunto. Adriano, potevo dire, bel gol, forza Inter, ha vinto 3 a 0, grazie, buonanotte. Invece mi son fermato. Mi son fermato, volevo sapere cosa volesse dire quella scritta. Ho chiesto alla professoressa, ho chiesto a mia nonna, ho conosciuto una ragazza, andavo a messa con lei per stare con lei, fino ad arrivare a chiedere il battesimo. Non cambia quello che succede attorno a te, cambia il modo in cui ti poni verso quello che ti succede, lo sguardo nuovo. Questo libretto qui è il libretto della notte del battesimo, Veglia Pasquale 2011, infatti, e a pagina 30 l'introduzione alla liturgia battesimale dice una bella cosa. Essi, i sei giovani tra cui io, sepolti in Cristo risorgono con lui e rivestiti di Cristo ricevono il dono inestimabile della fede. Ricevono il dono inestimabile della fede. Ecco, ricevono, quindi già è un accogliere, un dono, un regalo, non sono io che lo chiedo, lo ricevo, devo soltanto essere capace di accoglierlo, come? Con uno sguardo nuovo. Adriano, Gesù, Inter, sono venuti a cercarmi, Gesù è venuto a cercarmi nei miei ambiti. Gesù ti viene a cercare, l'unica cosa che devi fare è accoglierlo. Quindi davvero prego perché Gesù ci possa dare la capacità di avere questo sguardo nuovo nell'accogliere i segni che lui ci dà. A presto.